signori buongiorno e buona pasqua e benvenuti sul canale del master kai io sono il master kai e il vostro ospite su questo canale andiamo a concludere la serie del d20 su come creare i mostri abbiamo visto come creare i png come modificare i mostri già esistenti oggi non ci resta che fare altro che vedere come creare un mostro da zero che è un'attività molto lunga molto complessa molto probabilmente non merita il tempo che ci spenderete dietro e in pratica è un ottimo riassunto di che cosa voglia dire essere un master quando ci si appresta a creare un mostro da zero la prima cosa che bisogna fare è chiedersi quale sarà il concept che il mostro dovrà seguire sarà un brutto che carica i giocatori sarà un infiltrato che cerca di prenderle alle spalle sarà un incantatore che li bersaglia con i suoi poteri scegliere da subito quale sarà il concept di base di un mostro e magari abbozzarne anche una descrizione ci aiuterà a mantenerci coerenti con le scelte che poi dovremmo fare durante il processo meccanico di creazione diciamo che creare un nostro custom normalmente è un processo sempre molto lungo quindi è anche meglio assicurarsi che veramente non esiste sul manuale nulla di simile che possa essere utilizzato magari con qualche modifica invece di metterci a creare le cose da zero se però davvero non c'è nulla che possa essere riciclato da altre parti è comunque perfettamente legittimo mettersi a creare i propri mostri dato che come sempre banale e bello come esempio per questo video diciamo che vogliamo creare un grosso non morto che serva come guardiano di un oggetto magico messo alla fine del dungeon per adesso non andiamo a dilungarci troppo anche perché non sappiamo esattamente ancora cosa avremo a disposizione però il nostro concept ce l'abbiamo potrebbe essere anche una buona idea recuperare magari su internet un artwork o anche mettersi a creare il proprio se voi avete un'abilità manuale che io non ho per avere anche un'immagine che ci possa fare da descrizione anche non necessariamente da far vedere i giocatori ma solo per avere noi un'idea su a che cosa stiamo pensando quando creiamo il nostro il primo passaggio obbligatorio è quello di decidere quale sarà il nostro grado di sfida finale per il mostro qual è l'obiettivo di grado di sfida che vogliamo raggiungere diciamo che nel nostro caso vogliamo un grado di sfida 12 un mostro decisamente potente che possa fare da boss finale per un gruppo di medio livello andiamo come sempre a prendere le tabelle di modifica e di creazione dei mostri anche in questo caso prese da golarion insider vi lascio il link al sito sotto in descrizione sappiamo che il nostro morto sarà un non morto quindi la tabella ci dice che un non morto per avere un grado di sfida 12 sarà una creatura da 17 da di vita questo valore volendo potrebbe cambiare ma per ora teniamolo come buono adesso dobbiamo preparare le caratteristiche del profilo del mostro come abbiamo visto nel video della creazione dei png come base useremo le statistiche di elite e le andremo ad assegnare in base a quello che è più pertinente per il mostro nel nostro caso otterremo forza 15 destrezza 14 costituzione 10 intelligenza 8 salvezza 12 carisma 13 ovviamente queste caratteristiche andranno modificate in base alla taglia che vogliamo per il mostro il nostro mostro sarà di taglia enorme quindi anche in questo caso prendiamo come riferimento alla tabella le caratteristiche si riferiscono a una taglia media quindi due incrementi di taglia da taglia media a taglia enorme ci daranno più 16 alla forza più 8 la costituzione meno 4 la destrezza e più 5 all'armatura naturale in più i 17 da di vita ci daranno un potenziamento di più 4 alle caratteristiche alla fine otterremo forza 31 destrezza 10 costituzione 10 intelligenza 8 saggetta 12 e carisma 17 ora che abbiamo il profilo delle caratteristiche del mostro e sappiamo a quale tipo di creatura appartiene bisogna impostare il profilo vero e proprio del mostro e cominciare ad andare a ricavare tutti i valori derivati in base al profilo al tipo a eventuali sottotipi e assegnare anche tutte quelle abilità speciali che da essi dipendono nel nostro caso le abilità speciali dei non morti a questo punto assegniamo anche i talenti e i gradi di abilità per come ci sembra abbia più senso anche in questo caso non starò a spiegare talenti e abilità anche perché dipendono da mostro e mostro e dipendono anche da sistema a sistema in questo caso sto usando il sistema di pathfinder se usate il 3.5 potrebbero esserci abilità o talenti diversi potenzialmente il nostro mostro potrebbe dire sei finito qui anche se non ha molto carattere non ha abilità non ha poteri speciali per ora è solo un grosso energumeno che spinge indietro l'agente a sberle per vedere però se il nostro lavoro è venuto bene è venuto male la prima cosa è confrontarlo con la tabella dei valori teorici previsti per un mostro col suo grado di sfida possiamo vedere che sui punti ferita e su attacco sono in linea con i valori previsti i tiri salvezza sono più bassi ma nel nostro caso sono compensati alle molteplici immunità quindi non si tratta di un reale problema la classe armatura è invece piuttosto bassa 13 su un valore medio di 27 confrontiamolo anche con altri mostri presi dai bestiari per vedere se in linea con le altre creature il suo grado di sfida previsto e anche in questo caso noteremo subito ci sono delle mancanze quasi tutte le creature di quel grado di sfida hanno almeno una o due abilità speciali che le rendano caratteristiche il nostro mostro non ha nulla il modo più facile sarebbe potenziare la classe armatura nel mostro assegnandogli dell'equipaggiamento e poi dargli una capacità speciale abbastanza denerica come il soffio sguardo pietrificante qualcosa del genere è una cosa più che è legittima e vale sia nel caso stiate creando un mostro da zero sia nel caso stiate potenziando uno che già esiste ma noi siamo arrivati fin qui a creare un mostro personalizzato proprio perché abbiamo visto che non c'era un mostro utile a quello che ci serviva a fare nel mostrario quindi andiamo oltre e vediamo di creare una capacità speciale ad hoc non solo che rende il mostro interessante ma magari che rieschi anche a compensare le sue mancanze nella difesa il concept base del mostro abbiamo detto che è quello di un grosso scheletro quindi la prima cosa che facciamo è assegnamogli una riduzione del danno di 10 contundente che è abbastanza tematico con quel tipo di creature gli scheletri e altre creature simili hanno tutti una riduzione del danno di questo tipo e hanno anche tutti un'armatura naturale decisamente alta quindi aggiungiamo altri 10 punti alla sua armatura naturale in questo modo arriverà a 23 che sicuramente è meno di 27 anche se il divario non è tanto come quello tra 13 e 27 ma il mostro è comunque molto resistente ha anche come abbiamo detto una resistenza ai danni quindi 23 è un valore più che sufficiente per ora vediamo anche di aggiungere proprio una capacità speciale per renderlo più interessante magari qualcosa che gli permetta di recuperare punti ferita mentre combatte magari con gli attacchi in mischia assorbendoli dai giocatori che è un'altra cosa abbastanza tematica per i non morti potrebbe essere un effetto di energia negativa qualcosa che funzioni come l'incantesimo tocco del vampiro o qualcosa del genere i dettagli e l'abilità poi dipendono effettivamente da che cosa si vuol fare col mostro e dallo stile della campagna ovviamente tutto questo non può andare al di là dell'esempio anche perché l'ultimo passaggio da fare è quello poi di valutare effettivamente le abilità del gruppo contro cui questo mostro verrà posizionato nel nostro caso ad esempio questo mostro sarebbe veramente ostico se il gruppo fosse molto orientato verso il combattimento in mischia ma un gruppo di personaggi che tirano a distanza soprattutto se sono incantatori vista la sua mancanza di attacchi balistici e la sua comunque bassa classe armatura probabilmente lo farebbero fuori in pochi round senza mai essere messi realmente in pericolo valutate sempre bene le reali capacità del mostro e le reali capacità del party e cercate sempre di ottenere qualcosa che sia effettivamente interessante per i vostri giocatori diciamo che per questo video è tutto e con questo si conclude anche la serie dedicata ai mostri c'è da dire che si concluderà a breve anche credo l'intera serie sul d20 non è che resti così tanto da dire sulla teoria del d20 system oramai nel caso se avete argomenti specifici che vi interessa che vengano trattati scrivetelo nei commenti ovviamente scrivetelo nei commenti anche domande dubbi a perplessità e come fate voi a creare i vostri mostri se usate questo metodo se ne usate un altro quale utilizzate mi piacerebbe anche avere un dibattito su effettivamente qualcosa che merita mettersi a creare i mostri o è una perdita di tempo inutile comunque un mostro preso al manuale sarebbe stato altrettanto efficace per i giocatori come sempre se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo che è venuta a crescere il canale schiacciate il tasto della campanella se volete che vi arrivino le notifiche io sono il Master CAE noi ci vediamo nel prossimo video ciao ciao ciao